e così il tanto amato paolino chiede i danni alla juve 54 milioni ma 50 calci in culo ti darei munizza sa ancora gente che lo difende ah quello lì l'ha mandato mio allegri perché quello è un grande giocatore i sordi ma li sordi hai capito allora dovete capire la scelta di dibala lui l'ha fatto apposta l'inter l'ha scaricato lui l'ha fatto apposta ad andare alla roma perché dice cazzo allora non è vero che volevi soldi ma è accettato una realtà come roma 4 milioni e mezzo sono stronzate quello è tutto un giro per farvi abboccare a voi dibala voleva l'inter dibala voleva l'inter solo che l'inter ha scelto lukaku e tutti voi avete boccato eh sì di banca io abboccata non va l'inter godiamo godiamo perché giustamente è un tradimento però vedi si è dimostrato il bimbo che è ma no per risopera por di dio eh se gli toccano alziamo le mani ma quelli sono i soldi di risarcimento non sono i soldi che gli toccano sono soldi di risarcimento perché se dibala prendeva 7 milioni su 7 451 3 anni di stipendi è un zingale è uno stu un bimbo si è dimostrato un bimbo difendete la cosa dove sta nati per vingere agnelli difendi il tuo bambino ah raccirù cazzo che coraggio ciao belli